Le dieci squadre con più partite vinte nella storia della Champions League e della Coppa dei Campioni Io ti direi che diciamo sicuramente il Bayern, il Real, il Barcellona e il Manchester United Secondo me queste sono le prime quattro Vai dimmele, confermalo Real è primo con 291 Bayern? Il Bayern è secondo con 234 Barcellona? Barcellona è terzo con 201 Abbiamo detto Manchester United E il Manchester United è quarto con 161 Juventus? È una piccola richiesta, piccolissima 5000 follower e sblocchiamo il prossimo gioco, il prossimo quiz È la cosa che funziona più di tutte qua su TikTok Per andare avanti abbiamo bisogno di un piccolo vostro supporto 5000 follower e sblocchiamo il prossimo Ma è incredibile La Juventus è quinta con 153 Direi Liverpool Il Liverpool è sesto con 143 Le prime sei le ho prese tutte sei La settima, te la dico io, è il Milan È il Milan con 133 Dobbiamo considerare anche tutte le edizioni dal 50 in poi Tipo l'Ajax io me lo giocherei Sì Vai, Ajax L'Ajax è decimo con 112 Ci manca solo l'ottava e la nona Esattamente Chelsea Chelsea il dodicesimo con 104 fuori Proviamo l'Inter allora L'Inter non c'è neanche tra le prime 12 Ah Non mi sento di dire che ci possa essere l'Arsenal Il Manchester City lo escludiamo? No Troppo poche partite? Sì Cioè 112 sono tante Non sono più propenso per una portoghese Quindi una tra Porto e Benfica 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 Il Benfica è ottavo con 130 Dai, vuoi provare il Celtic? Sì Avete tre bonus Celtic Non c'è Non c'è Ah, il Porto non l'abbiamo messo Il Porto non l'abbiamo messo Secondo me ci sta a giocare Vai Porto Il Porto è l'ultima mangiante Era il nono posto con 125 vittorie